dodicesima di campionato il roselle batte il ponte bugianese per quattro reti a zero migliere diamasi oggi è stato festeggiato per la centesima presenza nel roselle ha vinto due campionati è arrivato secondo in coppa toscana mi sembra no ha vinto la coppa toscana poi qualche altra cosa è arrivato secondo posto ecco bene perfetto soddisfazione massima sì sì e beh lo estendo anche a paolo bernardini e a roberto tempini anche loro sono stati premiati per questa giornata dal presidente ringraziamo che sotto questo aspetto è sempre sempre un grande insomma senti 20 enormemente più non lo so visto siete stati premiati in tre e quindi questo li fa onore a tutte e tre 23 cose fatti otto solo gol subiti la miglior difesa il miglior attacco del campionato che dice il primo posto e possiamo far solo peggio nel senso siamo siamo contenti i ragazzi il giusto coronamento di un lavoro che hanno iniziato dal primo agosto e dove non si sono mai risparmiati quindi se lo meritano ampiamente di godere di questa settimana però insomma sappiamo benissimo che il campionato è lungo e ci abbiamo ora da qui fino a natale delle partite difficilissime però insomma le affronteremo sempre col solito piglio con la solita concentrazione con la solita cattiveria sportiva due gol da ito un bel gol di due gol scusami nieto un bel gol di giovane ferrari appena entrato e uno splendido gol d'antologia di raito i giocatori l'ho visto erano tutti entusiasti sia del gol di raito che della doppietta di nieto e anche quella di ferrari vabbè nieto come ha detto qualcuno è un giocatore in categoria ci può stare e poi ferrari lo sappiamo insomma è un talento che sta esplodendo in maniera prepotente e siamo felici per simone perché è il primo gol che ha realizzato dopo dopo l'infortunio ha subito più di un anno fa e ha fatto un gol e l'ha fatto meraviglioso insomma quindi complimenti a lui ma insomma complimenti a tutta la squadra perché queste sono le punte di un iceberg questa domenica che hanno portato a questo risultato però insomma dietro c'è il lavoro da parte di tutti. Senti ora ci avete un trittico di partite molto difficile Castelfiorentino poi Seravezza in casa e l'altra mi parla l'ultima prima di Natale l'Arcianese. L'affronteremo col solito piglio logicamente per vedere un quanto meno di fare il risultato e vincere l'appuntamento. Sì sì ma a noi non cambia nulla giocare con l'ultima in classifica a giocare con la prima in classifica a noi non ci cambia niente tanto noi abbiamo questa mentalità siamo completamente svincolati da qualsiasi tipo di responsabilità da qualsiasi tipo di risultato finale oltre sicuramente come ripeto sempre alla salvezza però vabbè è normale insomma siamo primi in classifica non è che ora si sta qui a parlare di salvezza si sta parlando però di una squadra che viva la giornata ogni domenica poi vediamo insomma io lo ripeto poi alla fine il campionato lo vincerà chi lo merita e quindi insomma credo che Seravezza ha tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo insomma non vedo altre squadre che abbiano proprio la voglia l'intenzione e la forza di riuscire a vincere questo campionato quindi insomma Seravezza lo può solamente vincere. Una squadra che interessa la classifica lanciata nella finale di Coppa Italia di eccellenza è una soddisfazione enorme. Sì sì ma se lo ripeto per noi è massimo piacere siamo al massimo cioè siamo consapevoli di quello che stiamo facendo però lo ripeto noi in questo momento non è che abbiamo mire di andare a fare chissà cosa noi abbiamo mire di vivere la giornata di centrare più vittorie più punti possibili poi se chi deve fare certe cose si trova in difficoltà non l'ha fatto e siamo lì nel senso faremo anche noi il nostro però ripeto noi l'importante è sempre l'impegno e questa squadra è una squadra che comunque tutte le domeniche chiunque giochi chiunque vada in campo da sempre tutto e se poi questo dare tutto basta salvarsi basta arrivare nel playoff basta vincere il campionato lo vedremo alla trentesima giornata e quindi noi lo viviamo senza ansia. Allora complimenti e un bocca al lupo.